Esiste la libertà di stampa? A rispondere alla domanda il responsabile del liceo scientifico sportivo di Cagno a Brescia, Fabio Sperduti, in un incontro didattico tra alunni, giornalisti sportivi e l'ex giocatore del Bari Antonio Di Gennaro. Un modo per capire quanto il mondo dell'informazione sia cambiato, ma soprattutto per preparare i futuri atleti ad affrontare il mondo dei mass media. Il rapporto con la stampa è soprattutto la schiena da tenere dritta, perché noi puntiamo molto in questo liceo a trasmettere dei valori per la crescita dei nostri studenti. Il valore principale secondo me sta per tenere la schiena dritta di fronte ad ogni situazione e non farsi influenzare troppo dagli editori, perché il problema che si sta verificando secondo me anche nello sport essendo un campo in cui c'è tanta mediaticità, anche troppa, si cerca sempre ormai di condividere con il giornalista più amicizia che cronaca. E secondo me è importante che i nostri studenti capiscano sia da atleti che da futuri giornalisti in domani come comportarsi di fronte a queste situazioni.